Si torna, signori, a polemizzare sulla politica perché Vincenzo De Luca si ributta a capofitto contro la Ellie perché lo scontro non finisce così. Ieri, a margine della presentazione di una mostra su Pasolini, il presidente della campagna ha approfittato della situazione per poter attaccare nuovamente, visto che già l'aveva fatto, la segretaria Dem, ma lo ha fatto su più fronti stavolta. Il tema del terzo mandato viene sollevato da gente che ne ha anche sette alle spalle, le parole del governatore che punta a restare in sella per un altro giro, nonostante l'opposizione della segretaria. L'onorevole Schlein ha trenta anni, ne ha già tre, Parlamento europeo, Consiglio regionale e Parlamento italiano. Una caciccante litteram, direbbe qualcuno, la chiosa. Poi c'è il PD Campano, commissariato dall'attuale vertice, è la tesi di De Luca, perché alle scorse primarie il 70% dei votanti Campania ha votato lo sfidante Bonaccini. De Luca parla di il sequestro del PD in Campania e aggiunge, c'è una palude a Roma, gli uomini liberi non sono graditi. A Roma il 90% sono miracolati, cooptati, che non saprebbero conquistare nemmeno il voto delle madri. E infine, il terzo punto, la linea del partito. Schlein ha rotto con i cattolici, con il mondo delle imprese e non dice nulla sul mondo del lavoro, soprattutto dei giovani. De Luca si schiera accanto ai den più preoccupati dalla svolta movimentista del partito e annuncia un evento per settembre che sa di sfida aperta perché io non ho paura di nessuno e non debbo nulla a nessuno. Le invettive dell'ex sindaco di Salerno contro la nuova segretaria non sono una novità, solo per restare sulle più recenti, De Luca, commentando il pessimo risultato del campo largo in Molise, aveva ironizzato su una precedente citazione maoista di Schlein, la rivoluzione non è un pranzo di gala, chiedendola almeno un tramezzino elettorale. In teoria, però, delle prove di disgelo ci sono stat, anche se evidentemente infruttuose. Ellen 11 giugno, complice un impegno politico della segretaria de Manapoli, i due si erano visti per un'ora a porte chiuse, in un incontro definito franco e cordiale parlando dell'autonomia da bloccare e dei fondi di coesione da sbloccare, oltre che del commissariamento del PD locale. Su quest'ultimo punto, dopo tre settimane, non si vedono però novità. Come leva rispetto al terzo mandato in campagna, poi, il governatore sa di avere dalla sua un pacchetto di voti che il PD non può rischiare di perdere, anche considerando che 15 regioni su 20 sono oggi in mano al centro-destra. E ieri non ha mancato di ricordarlo. Alle regionali ho ottenuto quasi il triplo dei voti che in tutta Italia ha preso la Schlein e sempre sempre in campagna il 70% del PD alle primarie ha detto no al Luke della segretaria Dem. Ma De Luca punta anche sul fattore tempo. Con le ultime elezioni posticipate causa Covid, anche le prossime dovrebbero slittare di qualche mese per non sovrapporsi con il periodo natalizio, quando si approva anche il bilancio regionale, finendo quindi nel 2026. E da qui alla metà inoltrata del 2025, quando si dovranno scegliere i candidati, possono cambiare tante cose.